A proda sul tavolo della Cisla nazionale la vicenda che nei giorni scorsi ha visto protagonista Franco Capanna, il sindacalista a terra mano che polemicamente ha abbandonato il sindacato dopo la mancata esecuzione della possibilità di aiutare le religiose in primis di clausure di tutta Italia a godere di prestazioni sanitarie gratuite che altrimenti non avrebbero per povertà economica Capanna sostiene che la vicenda sia arrivata sul tavolo del segretario generale Raffaele Bonanni che potrebbe essere investito dall'accordo sigrato fra Cisla e l'ordine dei medici per le visite specialistiche gratis Credo necessario ricucire lo strappo e si invita Antonio Scuteri, segretario Cisla e Teramo a inoltrare la circolare per dare ossigeno a tutte le religiosi di ogni ordine e finalmente confermarsi come sempre lo è stato, sindacalista di alto merito scrive Capanna Credo necessaria supervisione di Bonanni affinché la grandiosa opera venga sviluppata con incesività e competenza responsabile come si conviene quando si toccano realtà sociali imponenti dove sono coinvolte strutture di prim'ordine come la Chiesa Grazie